ragazzi è lo stesso giorno dell'ultimo video quello di oggi caricato alle 14 e mi avete dato il la impulso per parlare di prevenzione e di maniera approfondita più specifica per quanto riguarda l'inizio del fumare di come nasce e cosa vuol dire ho già spiegato i motivi per cui si fuma sono tutti psicologici fittizi nulla di esistente ma soltanto una grave piaga sociale cioè la non integrazione per essere accettati in sintesi dissi per essersi per essere parte nei grandi di un gruppo tra adeguarsi alla massa si fuma e poi oppure per curiosità e poi il 50 100 ci rimane secco non morendo ma non morendo ma danneggiandosi gravemente in sintesi quello che voglio dire prima nello scorso secolo all'inizio dello scorso secolo e in gran parte della prima metà si fumava addirittura addirittura si pensava che facesse benissimo fumare o non facesse proprio così tanto male no l'accendino raga non posso fumare si credeva facesse bene e quant'altro invece fumare fa malissimo è inutile che se vanno giustificazione ricorsi storici o scenni sanitari e così punto e basta e non perché lo dico io ma è così però sono molte volte asintomatiche le conseguenze quando saranno sintomatiche sarà troppo tardi comunque vanno alle ciance vedo tuttora che la sigaretta viene inserita delle labbra in tenere età spesso è abbinata da comportamenti da finto malavitoso con occhiali da pseudo cieco i comportamenti dei bambini che si affacciano ad adolescenza sono sempre più strani e tutti questi comportamenti vengono accompagnati dall'uso della sigaretta in maniera smodata e sbagliata qual è il problema ci sono dei genitori che dicono ai figli non fumare fa male non farti dire con una sigaretta perché sbagliato così eccola è inutile dire che è sbagliato è inutile dire che faccia male sono cose che l'uomo sa che il bambino sa sono cenni nozioni automatiche sono automatismi ok non c'è persona che non sappia che fumo faccia male in pratica in sintesi se io a mio figlio dico tizio chiamiamolo pasquale pasqua nei fumà pasquale mio figlio vorrà provare tutti i costi soltanto per il rompere in una maniera in una maniera illegale e andare in controtendenza alla sua adolescenza lineare per dire perché quello lo fa quello no invece no al figlio al nipote all'amico non bisogna mai puntare il dito contro per dire tu questa cosa non le devi fare perché lui si sentirà minacciato e l'uomo non non vuole essere decluso non vuole precludersi alcuna opportunità importante figuriamoci le frivolezze come questa che poi alla fine frivolezza non è più perché a livello tabagista ti rovina la vita praticamente io adesso sono dispiaciuto perché non l'accendino figuratevi come potrebbe essere la situazione lascio soltanto immaginare quindi tu padre tu amico è inutile che dici al tuo amico non fuma lui sentirà soltanto in obbligo di andare incontro vertenza contro dire quindi fate il vostro gioco provate capite se vi piace se mi piace sarete voi bene a dosare ma non è un fatto che dovete fumare perché dovete capire se buona la sigaretta non è buona la sigaretta è un fatto di prendere coscienza di provare tutto nella vita è come dice biaggia antonacci meglio aver male che essere un fantasma meglio prendere decisioni che stregnavi meglio muovere e rimanere immobili è la sintesi di tutto il discorso il discorso e bisognerebbe far un po' di educazione civica anche sul tabagismo se ne parla troppo poco c'è molta ignoranza o forse c'è troppa conoscenza non se ne vuole parlare uno deve cominciare a fumare quando lo ritiene opportuno ma certo non a 9 10 11 12 13 anni io ho iniziato a 17 per pura casualità ma non nascondo che avevo timore paura pure perché mi facevo il ritiro da tutte quante le voci che circolavano attorno a me no su di me sul fatto che potessi fumare potessi provocare che potesse provocare danni quindi è un po un macello a tal riguardo quindi ragazzi noi fate impappolare dalle parole altrui decidete voi il vostro futuro e quello dei vostri polmoni l'importante è che se fumate come dice morgan bevi se vuoi ma fallo responsabilmente ciao